In auto, in coda per i tamponi, ma si possono fare anche privatamente? In molte regioni sì, qui nel Lazio no. E bar e ristoranti? Dovranno chiudere alle 23? Il governo dice no, ma la regione Campania li ha già chiusi. E i vaccini anti-influenzali? Ci saranno? Basteranno? E quanto costeranno? Regione che vai, Italia che trovi. È tutto un problema di titolo quinto. Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti conducono Titolo Quinto da venerdì 23 ottobre alle 21.20, Rai 3.